Vediamo questo tappetino che ho preso per il periodo di Halloween da mettere fuori casa mi sembrava divertente adesso vediamo anche come era in offerta e vabbè ho deciso di buttare via qualche euro per comprarne uno. Dalle fotografie sembrava molto carino per cui vediamo se effettivamente è simpatico non è grandissimo e purtroppo viene consegnato con queste pieghe che spero vadano via è il classico tappetino da mettere diciamo sull'uscio di casa ha questa trama sotto che dovrebbe effettivamente dare un certo grip e la cosa carina è trovarsi questo simpatico clown di It che vi guarda dal basso verso l'alto è una stupidata lo so però a me era piaciuto particolarmente mi era sembrato più simpatico a livello di grafica la stampa non è male a livello di materiali non so se riesco a farvele vedere però non è spesso però ripeto per il periodo Halloween secondo me è sicuramente carino fa la sua bella figura vabbè vi lascio comunque il link in descrizione non so magari lo trovate che simpatico anche voi come l'ho trovato io potrebbe essere una buona una buona spesa non costa molto mi sembra una decina di euro per tutto sommato ci sta come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e ad iscriverti al canale se vi piace un contenuto di questo tipo grazie e alla prossima